Allora, io intanto provo di fare una cosa, perché secondo me c'è da giocare 61, 54, 22 e 17 sulla Rata di Firenze, vabbè, dice giocati, poi c'è da spostare una macchina targata, Pistoia, 94, 61, 22 e 13, spostati l'area urgente. Allora, io volevo iniziare innanzitutto questo discorso con, diciamo, noi si vorrebbe, diciamo, avviare un principio di granducato di Toscana. Allora, chi l'ha scritto i ragazzi, Tifoglio? Ci si afficcino a sé? Allora, no, la festa all'unità quest'anno non si fa, perché l'anno scorso, diciamo, non si fa la festa all'unità e la magliala di Tumà. Allora, torniamo su di queste serie, noi si vorrebbe, intanto, intanto, noi ci sa, a Cassini le testate nucleari, ci sa le testate nucleari, le testate nucleari stanno sotto, sotto, diciamo, dalle parti, diciamo, della Rotonda Nova, cioè, c'è una copertura, e se ci si sfava, noi si bombardano a Giana. E io propongo, perché a Giana c'è il petrolio, io so, che sto parlando, hai il telefono, chi è? Scusa, scusa, la chiamo io. Allora, 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 comincerà i lavori alla tramvia, la tramvia, la Firenze gli arriverà fino a Pistoia. Allora, farai il giro da Lucca, Pescia, Pisa, Pisa Livorno, ritornerà a Signa, da Signa ne arriverà a Prato, ritornerà dietro fino a Firenze. I lavori saranno, io scommetto una scena, con tutti i fiorentini che la finisco entro l'anno nuovo, anno di là, si finisce, capito? Allora, poi, e poi una raccomandazione da Via Iccardo, mi raccomando, scopritevi, state a mania corta, in canotta, e bevete tanta acqua, perché ci vuole da bell'acqua. Non mi fanno cazzare, è piaciuto, sto ragionando io. Allora, senti una ossa, e mi raccomando, ora si avvia con le pammolle, le panzanelle, la ribollita, la ghiaccia, il pomodoro, e così via, tutta la vina fresca, la cipollina etropea, ci sta bene, e vino bianco frizzantino di quello fresco. Buona!